l'artista esistenzialista buonasera questa sera mattia ci parlerà mattia allora mattia mio nipote ci parlerà della cellula la sua creazione prego mattia allora nucleo allora la parte centrale il nucleo allora dimmi anche com'è composto e tutti da e poi segno col dito così non capiamo da da materiale organico e poi sì ma è costituito da che cosa che cos'è ovatta carta argentata e un po di pasta mi sembra ecco allora le minime cose dici un pochettino che cos'è la parte centrale che cos'è l'uno che cos'è l'altro spiega un pochettino dai questi sono questi sono come se fosse uno scudo protettivo per la cellula ok poi che servono per la cellula che quando passa tipo una cosa che per esempio me interessa tipo cereali sto mangiando la cellula si apre e fa entrare i cereali si chiude e poi li fa entrare del tutto allora la parte centrale questo che cos'è il nucleo il nucleo poi a fianco questo lobuli rossi e questi nucleo è la parte del nucleo per lo smaltimento del materiale organico da cui è costituito il nucleo va bene buonasera la membrana ok che difende tutto va bene buonasera da tutto l'artista esistenzialista